Sì, questo non è solo un momento difficile, questo è un momento che fa capire la politica quanto è povera. Quanto oggi c'è dei politici che pensano solo ai suoi interessi, pensano solo ai suoi numeri, pensano solo ai suoi interessi anche personali, perché non è possibile oggi, in una situazione che questa, mettere in crisi un governo comunque a pochi mesi, comunque c'erano le elezioni. C'è grande rammarico, oltre che forte preoccupazione, negli ambienti di Confindustria, in questo caso ai nostri microfoni il presidente di Confindustria Toscana del Sud, per quello che sta appunto accadendo a livello nazionale con la crisi di governo. Le dichiarazioni del presidente arrivano a margine di una conferenza stampa sui fabbisogni occupazionari del settore e su una fotografia scattata dall'IRPET che comunque colloca la provincia di Arezzo, quarta in Toscana, rispetto all'assorbimento della mano d'opera nel settore manifatturiero. Ma questa crisi di governo adesso mette in pericolo tutte le misure che il settore si aspettava e soprattutto i fondi del PNRR. Ma tante misure, il PNRR, il PNRR era una cosa fondamentale, si rischia di arrivare tardi, si rischia di fare con esse credibili. Io veramente in questi momenti verrebbe la voglia di dire, io voterò qualsiasi partito che ci dice che si ha bisogno di meno politici in Italia e si ha più bisogno di politici europei, ci diranno delle linee. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore all'economia della Toscana, Leonardo Marras. Anche lui si è espresso sulla crisi di governo. È l'egoismo a cui ci ha abituato la politica italiana negli ultimi decenni. È irrazionale, non è nemmeno l'interesse particolare, perché sono convinto che gli italiani puniranno questa scelta. Sando bene che ormai le bugie che vengono dette per sollecitare la pancia sono bugie e poi di fronte alla realtà si dimostrano quelle che sono e di conseguenza se ragionano e se votano come io penso con la testa anche questo atteggiamento non ha prodotto nessun risultato in termini di vantaggio appunto nel particolare.